Gli oli pugliesi sono comportati benissimo, il nostro olio di coratina, l'olio eccelso di Andrea è arrivato immediatamente dopo i vincitori e questo è un risultato che ci onora e che ci dà orgoglio e al primo posto per la prima volta un olio spagnolo insieme ad un olio toscano e un olio spagnolo che è anche un olio biodinamico, dimostrazione che anche quelli che adottano tecniche sempre più e ancora più restrittive di quelle che il regolamento comunitario del biologico impone riescono poi a dare al prodotto una qualità che difficilmente si riesce ad ottenere diversamente.